18, 19, 19, Marco e da sensualità a corte interpreta Jean-Claude Maledetto, che è questo lupanare? Ma madre, è la mia biscottettina! A quest'ora dovresti stare in trattoria con Cassandra. In trattoria! Ma ti perdono. Oh grazie madre! Non vedresti benissimo anche tua madre in una discoteca così trendy? Certo madre! Come guardavo viena! Saresti perfetta! Cagnata sia la tua progenie! Perdono madre! Intendevo Cassandra! E ora addio alle bratelle da pulistra di Giascavalli! No! Le bratelle da pulistra di Giascavalli! No! Fatemi! Fatemi! Ma non troppo mica! Grazie! Jean-Claude fate l'applauso a Jean-Claude! Come? Vuoi dirglielo? Ce ne sta... Va bene, è meglio di nuovo! Alla giuria! Visto che nonostante il burto del...